Vediamo se ci siamo. Ancora no, perché? Antipatico. Ok, perfetto, siamo tornati online. Metà di cercare di Tieti Palermo. Ci becchiamo qui. Per fare delle missioni, l'arte della vita. Sembra... Sembra simpatico questo... Questo nome è lì. Andiamo. È anche vicino. Andiamo. Prendi. Ficchiamo la tizia. Ehm... No... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... e poi andiamo a tirare la missione secondaria ma non mi faccio impressionare un po' di rumore si 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 aspetta aspetta e poi andiamo andiamo a tirare il primo e poi andiamo a tirare e poi andiamo a tirare la potenza andiamo e vai acqua quanto raggio non penso di brutto allora devo riscendere tutta acqua qua ci sono mole e là c'è uova uova attimo andiamo avanti un po' questo è un attacchissimo qua come si fa qualcosa no Grazie a tutti. Sì 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 Sì